Contro i baschi dell'Atletic nel preliminare play-off di Champions League queste ancora le chance per il Napoli, due in 30 secondi prima il tiro di Amsic, deviato dal ginocchio di David Luiz e poi la testa di Udovan Zapata salvata da Cabai sulla linea di porta Sì, Napoli che ci ha creduto, ha provato a fare quello che sa fare meglio cioè la fase offensiva in velocità